musica non l'ho ancora visto perchè era il periodo degli esami perchè due ore? 10 ore e tu non me lo spariamo e tu non ce lo spariamo ma il paesaggio l'ho visto un po' devo vederlo questo è quello che lo scenderò ma Marco mi fa no scendere l'altro vai vicino ma in realtà si è più o meno uguale io voglio stare su un metro su un piano adesso stiamo infatti ma mi hai fatto una squilla magica? mi ha fatto un messaggio ma non mi ha risposto disagio da lì fa freddo poveraccio mi ha fatto un po' 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 un po'